...quadre che vantano le migliori difese del campionato. Il Milan è riuscito a strappare il pareggio a tre minuti dal termine. Il Verona passa al sedicesimo con Tricella. Immediata la reazione dei rossoneri che colgono la traversa al trentesimo con Maldera su punizione e si rendono pericolosi altre due volte con Battistini. Nel secondo tempo, del quale non possiamo proporvi né qualche azione né il pareggio del Milan, perché non sono stati ripresi, il Verona sfiora il raddoppio in tre occasioni. Poi si chiude in difesa e il Milan corona il suo forcing con un bel gol di Battistini al quarantaduesimo.